Musica Ben ritrovati con il Medico a casa tua. Oggi parliamo di un argomento che interesserà in modo particolare la popolazione maschile, le spettatori uomini, parliamo di tumore alla prostata, un tumore che ha un'incidenza importante sulla popolazione. Lo facciamo con il professor Stefano Cavalleri, direttore dell'Urologia dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Benvenuto. Grazie. Allora, capiamo subito intanto qual è l'incidenza di questo tumore sulla popolazione maschile. Certo, l'incidenza è molto elevata soprattutto nella popolazione anziana. Anziana intendiamo dai 70 in su. Però stiamo vedendo sempre maggiori casi nei quali questo tumore della prostata si presenta anche in età giovane, quindi tra i 40 e i 50 anni. Quindi è per questo che bisogna fare una diagnosi soprattutto in questi pazienti, pazienti giovani che hanno un'aspettativa di vita lunga e quindi possono ottenere anche degli ottimi risultati con una terapia adeguata. Ci sono delle percentuali che ci può dire, dei numeri? I numeri sono abbastanza elevati. Diciamo che siamo su un'incidenza del 40-50% come patologia, però come incidenza di malattia, soprattutto di tumore della prostata, abbiamo un 20-30% di casi che vengono diagnosticati come tumore della prostata. Ecco, quali sono i sintomi? Quant'è che uno si accorge che ci sono dei problemi per cui è meglio andare dal medico? Ecco, qui i sintomi dobbiamo raggrupparli sotto una grande famiglia che è la patologia della prostata, quindi indifferenziatamente tumore della prostata e ipertrofia benigna. Sono tumori e sono sintomi che purtroppo spesso sono anche un po' subdoli, però nella maggior parte dei casi indicano al paziente che c'è qualche cosa che non va, cioè si ha una minzione non regolare, si fa difficoltà a urinare, ci si alza la notte, si ha una minzione prolungata nel tempo, cioè ci sono dei sintomi, dei disturbi dello svuotamento vescicale, come se la vescica facesse fatica a svuotare proprio perché c'è un ostacolo al di sotto della vescica, dove è la sede naturale della prostata. Ecco, vediamo che molto è cambiato proprio a livello di diagnosi, cioè sono stati fatti dei progressi notevoli grazie anche alle nuove tecnologie. Esatto. Diciamo che ci sono dei capisaldi sui quali la diagnosi si basa. Il primo è sicuramente la visita che viene fatta in ambulatorio, la visita che prevede la palpazione della prostata, quindi l'esplorazione rettale, e sentire digitalmente come è la prostata, se è una prostata morbida, se è una prostata indurita, se è una prostata allargata, ingrossata, se quindi ci sono dei segni che possono far pensare alle due patologie, cioè al tumore della prostata o alla ipertrofia della prostata. E già in questo caso si fa un distingo tra le due cose. Nel caso si trovasse soltanto una prostata ingrossata con dei disturbi dello svuotamento, allora in quel caso il paziente viene inquadrato in una ipertrofia prostatica benigna, e quindi fatti degli accertamenti per valutare quanto è il grado di questa ostruzione che crea la prostata. Se invece alla visita rettale si sentono delle sospetti, delle zone indurite all'interno della prostata, qualcosa che può far pensare o sospettare a un tumore della prostata, beh allora lì inizia un iter che è un po' diverso, un iter che prevede una serie di accertamenti che vanno da accertamenti di tipo laboratoristico fino ad arrivare a accertamenti di diagnostica per immagine e fino poi alla diagnosi di precisione che la diagnosi viene eseguita soltanto tramite una biopsia della prostata. Ecco, proprio su questo volevo chiederle, perché dopo vedremo un contributo che approfondisce proprio l'aspetto della diagnosi, ma il discorso della biopsia è sempre così certo o lascia comunque spazio a delle possibilità di errore? Allora, la biopsia deve essere indicata proprio nei casi sospetti, quindi quando ci sono dei sospetti che emergono alla visita rettale ad alcuni dati del PSA, anche se il PSA come esame di laboratorio non lo possiamo considerare come un marcatore neoplastico. Ecco, spieghiamo perché è importante questo del PSA, spieghiamo che cos'è. Molto ci si viene fatti forviare dal significato del PSA, perché il PSA è una sostanza che viene prodotta dalla prostata, quindi qualsiasi patologia della prostata in genere, qualsiasi patologia della prostata determina una alterazione del PSA, quindi non è specifica per il tumore della prostata. Diciamo che una voluminosa ipertrofia prostatica può aumentare il valore del PSA, una infiammazione della prostata può aumentare il valore del PSA, come anche il tumore della prostata, chiaramente. Però partire dal PSA per arrivare al tumore della prostata è un po' limitante. L'urologo, diciamo, il ruolo dell'urologo è quello di riunire il valore del PSA, il valore dell'esplorazione rettale, il valore della diagnostica per immagine, raggrupparla in un unico ordine e quindi fare una diagnosi, avere un sospetto. Questo sospetto porta poi all'esecuzione della biopsia della prostata. La biopsia della prostata, se viene fatta con questi presupposti, quindi è, diciamo, una biopsia abbastanza mirata, cioè esiste un sospetto più o meno importante e quindi la diagnosi, cioè la biopsia deve soltanto dare una conferma di questo sospetto. Se invece la biopsia viene fatta, diciamo, random, cioè non abbiamo capito niente prima, non sappiamo, abbiamo un valore del PSA alterato, però non lo sappiamo correlare con gli altri dati, abbiamo dei dati così alla visita che non sono ben chiari, eccetera, e allora si dice, beh, allora facciamo la biopsia perché vogliamo chiarirci le idee, beh, allora in quel caso ecco che può venire fuori un qualche cosa di non aspettato. Quindi probabilmente in quel caso la biopsia forse sarebbe stata un po', forse da ragionarci un pochino più su. E allora vediamo proprio come la diagnostica viene supportata anche dalle nuove tecnologie con questo intervento del dottor Giovanni Carbonin, direttore della radiologia. La risonanza magnetica della prostata sta vivendo un periodo di grande importanza perché soprattutto negli anni più recenti è passata da una diagnostica di così conferma, di conferma di una lesione già fortemente sospettata con altre metodiche, in particolare con l'ecografia transrettale, ad una metodica invece che comincia ad essere proposta per lo screening. E questo perché? Perché sicuramente è aumentata la tecnologia che consente adesso di ottenere degli esami in maniera molto più veloce e molto più accurati sia da un punto di vista di morfologia, quindi di dimostrazione delle caratteristiche della ghiandola, ma anche perché grazie a degli altri studi che possono essere consentiti dalla risonanza magnetica riusciamo a valutare anche delle caratteristiche intrinseche dell'organo che andiamo a valutare, ad esempio con la somministrazione di mezzo di contrasto, che ad esempio con una semplice indagine ecografica non sarebbero altrimenti valutabili. Si parla oggi di risonanza magnetica cosiddetta multiparametrica della prostata perché attraverso vari elementi che noi andiamo a misurare, a raccogliere durante l'esame siamo in grado di avere una visione d'insieme non solo delle caratteristiche della ghiandola ma anche della patologia che la affligge. In questo senso la risonanza magnetica, ripeto, viene sempre più proposta ora in una fase molto iniziale del percorso diagnostico del tumore della prostata. Mentre una volta veniva, ripeto, utilizzata come conferma magari dopo una biopsia che già evidenziava la presenza di tessuto malato, adesso invece viene utilizzata proprio per sospettare la presenza di una lesione, ma ancora più importante viene utilizzata per orientare quello che fino a qualche anno fa poteva essere un prelievo cosiddetto random, cioè casuale, sulla ghiandola perché non vedendo una lesione bersaglio si andava a fare dei prelievi così a caso sulla ghiandola, adesso invece siamo in grado proprio di orientare il prelievo dove ci interessa. Questo ad esempio è un caso in cui vediamo che c'è un'area qua piuttosto disomogenea nella porzione più anteriore della ghiandola, se noi consideriamo che di solito i prelievi vengono fatti con approccio transrettale è comprensibile che qua, a meno che non si sia orientati, che non si sappia o non ci sia il sospetto di una lesione proprio qua davanti molto più probabilmente saremmo andati a fare dei prelievi nella porzione più dorsale. Ecco, quindi la risonanza magnetica presenta un'importanza fondamentale sia nella conferma di malattia ma anche per orientare correttamente un prelievo. Ecco, abbiamo visto diciamo come la tecnica, la tecnologia ci può aiutare nell'individuare questo tipo di tumore, si parlava di screening, quindi della prevenzione, del monitoraggio proprio delle persone. Ecco, gli uomini sono collaborativi in questo senso, cioè pensano alla loro salute in questo senso? Gli uomini se motivati sono molto collaborativi, quindi si iniziano i disturbi, ma poi anche diciamo leggendo, informandosi, capiscono che soltanto facendo prevenzione si può riuscire ad ottenere dei risultati e dei trattamenti validi, quindi arrivare tardi ad una diagnosi vuol dire probabilmente non fare un trattamento adeguato, quindi cercare di prevenire quelli che sono i disturbi, quelli che sono le patologie. E allora parliamo proprio dei trattamenti. Nel momento in cui purtroppo si vede che c'è effettivamente un tumore alla prostata, cosa si può fare? Beh, i trattamenti sono vari. Io posso parlare per quanto riguarda il trattamento chirurgico, che consiste nella asportazione della ghiandola prostatica e delle vescicole seminali. È un trattamento radicale, si dice, cioè si parla di prostatectomia radicale, cioè l'asportazione di tutta la ghiandola e questo trattamento comporta essenzialmente due problematiche. Le problematiche sono essenzialmente quella della incontinenza urinaria e quella della impotenza sessuale. Ora, queste sono un po' delle problematiche che sono legate un po' a tutti i trattamenti, però bisogna dirlo, perché sia la radioterapia che anche la terapia ormonale, che sono le alternative alla terapia chirurgica, possono dare gli stessi problemi. Ora, quindi, la finalità della terapia chirurgica è quella da un dato di togliere tutto quello che c'è da togliere, cioè asportare la neoplasia. Dall'altro cercare di asportarlo, però minimizzando quelli che sono questi effetti collaterali. Allora, gli studi di anatomia chirurgica, gli studi che sono stati fatti, hanno proprio finalizzato questo obiettivo e quindi le tecnologie che si sono applicate sono state proprio utilizzate per evitare di andare a ledere determinate strutture nervose che sono responsabili e della continenza urinaria e della impotenza sessuale. Quindi possiamo dire che rispetto ad alcuni anni fa sono stati fatti dei progressi e quindi diciamo c'è un impatto minore, vengono conservate maggiormente queste funzioni. Esattamente, esatto. Ci sono delle tecnologie, e parlo della chirurgia robotica, che permette innanzitutto di vedere perfettamente e questo è il presupposto fondamentale per poter fare un intervento che sia fatto bene. E in questo ospedale avete questo robot che fa cosa? Abbiamo il robot che permette di fare questo tipo di interventi e soprattutto di fare una chirurgia nerve sparing, cioè quella che viene detta col risparmio dei nervi. Quindi permette quindi di ottenere dei risultati che sono dei risultati funzionalmente validi, cioè col risparmio quindi della continenza urinaria, quindi un intervento che poi permetterà di avere una perfetta continenza urinaria e anche un ripristino, a distanza di tempo, della funzione sessuale. Quindi è un intervento che è molto ancora più preciso rispetto a, forse a qualche anno fa, insomma, grazie all'utilizzo di queste tecniche. Questo sì, assolutamente. Questo lo possiamo dire perché il robot permette una visione perfetta da questo punto di vista. Permette una visione, anche rispetto a una chirurgia laparoscopica, permette una visione in tre dimensioni, quindi una visione sul campo vicino alla prostata proprio del dettaglio e quindi permette di vedere proprio tutte le strutture che sono deputate alla conservazione della funzione sessuale e della continenza urinaria. Vediamo oltre alla risposta chirurgica quali altre terapie possono essere messe in atto con questo intervento del dottor Filippo Longi, direttore della radioterapia oncologica. Vi vorrei parlare di quelle che sono le opportunità terapeutiche in merito al tumore della prostata. In particolare nell'ospedale di Negrar abbiamo attivo un protocollo che ci consente in modo rivoluzionario di ridurre il numero di sedute che normalmente per la radioterapia necessitano almeno di 40 accessi in radioterapia, cioè nel reparto di radioterapia. Noi con questo protocollo innovativo riusciamo a ridurre drasticamente il numero di sedute in sole 5 sedute. Questo significa che il paziente per circa una settimana viene nel reparto di radioterapia e viene trattato in modo accurato allo stesso modo di un trattamento tradizionale. La diversità sta nel fatto che noi utilizziamo questa tecnologia per aumentare al massimo l'accuratezza perché le dosi per ogni singola frazione saranno molto più alte rispetto al trattamento convenzionale. Noi in particolare, questo è un manichino che va a simulare la zona pelvica, la prostata si trova di solito nella porzione più profonda della pelvi e abbiamo tutta una serie di sistemi che ci consentono di individuare la prostata e di colpirla nel modo più preciso possibile con un numero di sedute molto contenute e con dei profili di tossicità e di efficacia che sono molto promettenti perché risultano sovrapponibili rispetto ai trattamenti convenzionali. In particolare con questi sistemi siamo in grado di visualizzare il movimento che la prostata può avere. La prostata infatti spesso si muove per i movimenti relativi all'intestino, per il riempimento vescicale. Siamo in grado di monitorizzarla durante le sedute e in questo modo siamo in grado di correggere la posizione e dare la dose necessaria nel modo più preciso possibile. Questa apparecchiatura che poi vedete è il True Beam, è una delle apparecchiature più moderne di radioterapia. Riusciamo a bordo di questa apparecchiatura, quindi con il paziente nella posizione di trattamento, a riproporre delle immagini che sono delle immagini corrispondenti a quelle di una normale TAC. Con queste immagini noi visualizziamo la sede di trattamento, facciamo delle correzioni opportune e riusciamo a erogare la dose nel modo più preciso possibile. Più preciso possibile perché l'apparecchiatura è in grado, visualizzando l'anatomia del paziente, ricordo è diversa per ogni paziente, è in grado di fermarsi nel momento in cui abbiamo la presenza dell'organo a rischio e di colpire nel momento invece in cui abbiamo il nostro tumore nella posizione ideale. Quindi in sintesi questo tipo di approccio che è molto rivoluzionario consente in modo sicuro, in modo efficace di ridurre il numero di sedute e ridurre così anche i disagi per i pazienti che solitamente prediligono l'intervento chirurgico alla radioterapia, spesso anche per i motivi logistici. Quindi in questo modo possiamo offrire una opportunità non invasiva, assolutamente non invasiva, che abbia la stessa efficacia dell'intervento chirurgico però in pazienti molto selezionati, in pazienti che abbiano una prostata piccola, che abbiano una anatomia che ci consente di trattare nel modo adeguato con queste alte dosi per frazioni in sole cinque sedute e quindi è necessario che il clinico, il radioterapista oncologo, vada in ambulatorio a verificare che ci siano le condizioni idonee per rientrare all'interno di questo protocollo e quindi giovarsi dei benefici che questo protocollo può dare. Allora abbiamo visto questo importante settore, quello della radioterapia oncologica, ma può essere sostitutivo ma anche no rispetto all'operazione chirurgica? Diciamo che dopo l'operazione chirurgica il dato fondamentale è che abbiamo un esame istologico, abbiamo un esame istologico della prostata asportata, quindi noi sappiamo e capiamo perfettamente, l'anatomopatologo ce lo dice, che caratteristiche ha questa neoplasia, quanto è estesa all'interno della prostata, se è localizzata solo all'interno della prostata o si estende anche fuori della prostata, se ci sono dei linfonodi interessati, praticamente se è una malattia localizzata alla prostata oppure se invece è inizialmente sconfinata fuori dalla prostata e questo ci permette di capire se l'intervento chirurgico è stato radicale oppure necessita di ulteriori terapie che possono essere o una radioterapia o una terapia ormonale. Questo di solito viene discusso nei nostri meeting uro-oncologici, la presenza dell'urologo, del radioterapista, dell'oncologo, nei quali parliamo proprio dei vari casi e ci confrontiamo e cerchiamo di dare un tipo di terapia completa al paziente. Tornando all'intervento chirurgico, l'utilizzo del robot quanto riesce a salvare in percentuale appunto per quanto riguarda i nervi diciamo? Esatto, è una terapia di precisione, quindi un trattamento di precisione questo, che permette di elevare moltissimo la percentuale di recupero e della continenza urinaria e della funzione sessuale. Arriviamo su un recupero della funzione sessuale attorno al 60-70% dei casi. Allora, parlando di tumore alla prostata, le percentuali, la possibilità di guarigione è comunque molto alta, mi pare di capire. È molto alta, sì, è un tumore che si sviluppa molto lentamente e le terapie sono delle terapie efficaci che danno dei risultati nell'85-80-85% dei pazienti. Quindi questo è molto incoraggiante, l'importante è rivolgersi presto allo specialista, all'urologo in questo caso e affrontare la questione. Affrontare la questione perché il trattamento è un trattamento efficace che si può affrontare, non è un trattamento mutilante come si può pensare e le percentuali di guarigione sono veramente elevate. Ecco, torno un attimo all'ambito diagnostico, quanto può essere dolorosa la diagnosi? È più fastidiosa o è più dolorosa? È più fastidiosa credo perché spesso non ci si aspetta una diagnosi di questo tipo e l'affrontare tutta una serie di accertamenti e trattamenti può anche essere fastidioso. Come tipo di dolore non è un intervento doloroso questo, non evoca troppo dolore. In ogni caso i trattamenti che vengono supportati nel perioperatorio permettono di non avere praticamente dolore. Allora, professor Stefano Cavalleri, siamo in chiusura, il direttore dell'urologia dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, voglio chiedere, è evidente che ogni persona è diversa dall'altra, ma i tempi in genere, che tempi ci sono? Beh, la richiesta è veramente elevata anche perché la disponibilità di robot sul territorio non è così elevata. Quindi Negrar può dire abbiamo un robot e facciamo questo tipo di terapia, è una terapia selettiva, una terapia selezionata, una terapia che dà degli ottimi risultati, quindi esistono molte persone che si rivolgono all'ospedale di Negrar per questo. I tempi per un intervento di questo tipo sono circa un mese e mezzo, due. E i tempi di trattamento e guarigione per questo tipo di tumore? La guarigione è praticamente quasi molto breve, diciamo 10-15 giorni, è solo la rimozione del catetere dopo l'intervento e diciamo che per la riabilitazione dopo, la riabilitazione della continenza urinaria e della funzione sessuale ci vuole qualche mese, nel giro di 3-4 mesi. Grazie professor Cavalleri per aver approfondito con noi questa tematica importante del tumore alla prostata che interessa una fascia significativa della popolazione maschile ma abbiamo visto per fortuna con esiti positivi per lo più una volta trattata. Grazie professore. Grazie, grazie, arrivederci. E con il medico a casa tua ci vediamo come a solito alla prossima puntata. Grazie a tutti.